Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A12 controllo della velocità attivo tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. In Fipilli rallentamenti per il traffico intenso tra Ponte d'Era, Ovest e Ponsacco e la diramazione per Pisa in direzione Livorno. Personale sulla strada tra Vicarello e Lavoria in direzione Firenze. Infine per gli aerei il volo Lufthansa da Francoforte atteso a Firenze alle 12.55 atterrerà alle 13.35 e ripartenza delle 13.30 prevista alle 14.15. Muoversi in Toscana Info è un servizio e un collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!